Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un saggio appena pubblicato da Viella dal titolo Governare la Lombardia Caroliggia 774-924 d.C. di Igor Santo Salazar, al quale io lascio subito la parola perché sono molto curioso di ascoltare cosa ci racconta di questo saggio. Prego Igor, a te. Grazie mille Maurizio del tuo invito e un saluto a tutte e a tutti. Fondamentalmente questo libro quello che pretende è studiare, rendendo spunto dalla Lombardia, da una Lombardia geograficamente un pochino più ampia di quelli che sono i confini odierni che tutti conoscono all'interno della Repubblica Italiana, insomma, studiare la Lombardia in epoca carolingia, quindi dal 774 al 924. Forse qualcuno si sorprende o qualcuno potrebbe sorprendersi di pensare anche al taglio cronologico, cioè includere nell'epoca carolingia anni, decenni che si spingono oltre l'888. La mia intenzione era arrivare fino al 924 all'assassinio di Berengario a Verona nel 924 perché sono fermamente convinto che le generazioni che hanno vissuto l'888, che hanno accompagnato anche tutta la parabola delle guerre civili per il Regno Italico e fino alla morte di Berengario, vivano in un contesto politico invevuto ancora di principi che sono prettamente carolingi. Per quello mi sono spinto fino al 924 e anche in quel torno di anni, dei primi anni venti del decimo secolo, si produce anche un fortissimo rinnovamento nelle generazioni che sono chiamate a dirigere i quadri politici e religiosi dell'Italia, del Regno Italico e quindi penso che tutto concorra a giustificare la mia scelta insomma di definire tutto quel periodo fino alla fine della vita di Berengario come periodo carolingio. Questo più o meno per spiegare il perché di quel taggio cronologico. Da un altro punto di vista sicuramente si potrebbe anche spiegare il perché al lettore o alla lettrice interessata a questo libro il perché della Lombardia. Fondamentalmente la Lombardia perché è uno degli spazi geografici all'interno del Regno Italico che più significative e più numerose scritture ha conservato di quel periodo e dunque è uno dei posti dove meglio si può andare a indagare tutte le strutture e tutte le logiche del potere dell'economia alto medievale all'interno del Regno Italico. È ovvio che ci sono molti più documenti per esempio per quel che riguarda la Toscana soprattutto grazie all'enorme patrimonio scrittorio dell'archivio archivio di Lucca però queste pergamene illuminano lo spazio della marca di Toscana e quindi permettono di avvicinarsi alle strutture della marca di Toscana. Viceversa quelli della Lombardia illuminano il cuore del Regno quindi i paesaggi, le città e i villaggi più vicini a quello che è il cuore pulsante a quello che è il paesaggio reggio all'interno del Regno Italia e per questo credo che l'analisi della Lombardia permettesse un avvicinamento molto più molto più intimo alle strutture del potere centrale dell'autorità carolingia in Italia di quanto lo fa qualunque altro tipo di spazio geografico all'interno dell'Italia centrosettentrionale. Insomma il libro poi si divide in vari capitoli ovviamente dove si prendono anche di petto altre problematiche si tenta di mettere insieme un studio che faccia un rapporto completo di tutto quello che sono che spieghi e che interpreti tutto quello che sono le principali caratteristiche del governo sulla Lombardia carolingia in questo torno di tempo quindi dal 774 al 924. Però il primo capitolo vuole proprio approfondire anche dopo aver spiegato le ragioni della celta geografica vuole anche approfondire la qualità e la struttura di quelle fonti che permettono allo storico o alla storica poi di realizzare le proprie interpretazioni. Quindi spiegare a chi legge cos'è arrivata fino ai giorni nostri e perché è arrivato fino ai giorni nostri. Quindi spiegare anche un po' la tradizione, la tradizione storica, i sistemi di archivio, di trasmissione della documentazione scritta che illumina la Lombardia carolingia e così spiegare anche quali sono le caratteristiche principali e quali sono i fondi principali che parlano della Lombardia carolingia. E quindi viceversa anche analizzare forse anche in filigrana i silenzi, perché i silenzi molto spesso non si devono al caso, non sono prodotto di incendi o dell'incuria e del passaggio del tempo nel naufragio dei secoli, ma rispondono a scelte molto ponderate di cosa conservare e cosa tramandare nel tempo. Uno degli esempi più belli forse per la Lombardia carolingia è quello del Codex Sicardi, che è un cartulario, un codice dove tra il XII e il XIII secolo il vescovo di Cremona, Sicardo, copiò tantissima documentazione pubblica, sia diplomi sia placiti insieme ad altra documentazione anche privata, molti delle fonti che illuminano la città di Cremona, la diocesi di Cremona, grazie alla quale noi conosciamo poi quella realtà storica in modo così approfondito. E se il codice Sicardi si fosse perso, se il codice di Sicardo fosse andato perduto, come rischiò, perché fu recuperato sul mercato antiquario, d'Anconno a Ser, della storia locale nell'Ottocento, probabilmente la storia di Cremona per tutto questo periodo d'altro medievale languirebbe nel silenzio più assoluto. E dopo aver fatto questa sorta di presentazione del perché noi contiamo con quella documentazione, che cose illumina, in quali vie è arrivata fino ai giorni nostri, si passa direttamente all'analisi di quello che è il governo italiano dal punto di vista dell'autorità centrale, del regno, come dicevo prima, prendendo spunto ovviamente di tutto quello che riguarda la Lombardia. E quindi il cuore pulsante, come dico, di questo paesaggio reggio che si distende fra le Alpi e il fiume Po e che è attraversato da moltissimi corsi d'acqua, allora come oggi evidentemente, anche questo paesaggio ha un'influenza molto importante anche sulla creazione di reti commerciali e di spazi di influenza che poi risulta molto evidente anche nelle fonti. Quindi ha un capitolo più evenimentiel, più dedicato a interpretare i processi e i momenti delle forme del dominio carolingio in Italia, che ovviamente non può essere interpretato come un monolite, subisce anche delle trasformazioni e ovviamente come tutto il mondo carolingio, anche oltralpe, conosce in un contesto di tradizioni e rinnovamenti dei cambiamenti significativi, si spiegano insomma il succedersi anche da un punto di vista costituzionale delle forme di governo carolingio su questo territorio fino a tutte le guerre civili, quindi fino a ben oltre quel fatidico manualistico 888 della morte di Carlo III, di Carlo il Grosso e in questo modo si avvicina a chi legge a tutta quella realtà molto molto intricata, molto molto articolata di fedeltà e tradimenti, ma di linguaggi politici prettamente carolingi, che si osservano nelle fonti narrative, nelle fonti d'archivio, anche lungo le guerre civili e fino alla definitiva vittoria di Berengario, che rimane più senza nessun tipo di nemico sul campo dopo il 905, quindi per un po' di anni può dirsi re d'Italia senza particolari sconvolgimenti e poi successivamente anche l'incronazione a Roma come imperatore, da lì in poi c'è un capitolo dedicato più da vicino alle strutture vere e proprie di governo e soprattutto alle idee, all'ideale che muove questo sistema di governo perfettamente in relazione e perfettamente in rapporto con il contesto che si trova anche oltre Alpe, dove molti degli intellettuali carolingi hanno le loro sedi, i loro monasteri, dove esercitano questo tipo di ruolo di pensatori, di una morale e di un ideale di governo carolingio e si analizzano lì, in quel pensare, l'ideale, sul regno, si analizzano le forme in cui si rispecchia l'idea della res pubblica tra monasteria ed escrittoria e le ricadute che questo ideale può avere sulla pratica e ovviamente successivamente si analizza la pratica e quindi quanto di quella prassi rispetti o tradisca viceversa tutto quel apparato intellettuale che è stato creato dai diversi pensatori, per così dire, dai diversi scrittori carolingi lungo tutto l'ottavo e i primi anni del decimo secolo. Ma non solo, la mia intenzione non era solo quella di osservare il rapporto o il dialogo molto spesso travagliato tra ideale e pratica guardando alle strutture più alte del governo carolingio nella Lombardia, quindi nel Regno Italico, ma di scendere anche e di osservare da presso le forme del raccordo politico nelle campagne e nelle città e quindi andare a analizzare anche tutto quel ben noto insieme, tutto quel conosciutissimo, potremmo anche dire, grazie a una tradizione di studi molto solida, universo di ufficiali minori, di elite locali, di conti e di vescovi che compongono, insomma da un certo punto di vista, il tessuto sul quale si ricama tutto il corpo politico del Regno Italico, fra nono e il primo quarto del decimo secolo. E infine il saggio, il libro, si conclude con un capitolo dedicato anche a quelli che sono le vasi economiche dell'autorità centrale e gli spazi della rappresentazione politica, perché pensavo che potesse concludere anche arricchendo da questo punto di vista quello che era un oggettivo della ricerca indirizzato a proprio decodificare tutta la complessità dell'autorità, dell'esercizio del governo sul Regno Italico. E quindi non si poteva prescindere in un racconto, in un'interpretazione che tenesse in conto l'alta politica, gli ideali degli intellettuali e la prassi degli uomini chiamati a creare su scala locale questo tipo di governo che si dovesse anche ampliare il campo e includere quelli che sono le vasi economiche che permettevano all'autorità centrale le risorse sufficienti per mantenere e per creare questa egemonia politica e tutte le sue reti di clientele e fedeltà. E infine proprio gli spazi, il teatro, proprio dove si espletava questo dramma politico tra nonno e decimo secolo. In questo modo le basse economiche fondamentalmente che ho analizzato sono i beni fiscali e quindi tutto quell'insieme di patrimoni rurali fondamentalmente, dove si osserva la presenza di appunto curtes, la presenza di spazi agricoli, ma anche di edifici come i palazzi o come altro tipo di architetture, di rappresentazione pubblica, dove il potere pubblico fondava, radicava la propria presenza sulle campagne dell'Italia settentrionale. Anche il libro è corredato da alcune mappe che illustrano la presenza capillare, molto capillare, molto estessa sul territorio, soprattutto sulla Lombardia più meridionale e soprattutto negli spazi che corrono attorno ai grandi fiumi della Lombardia, non solo il Po ma anche il Ticino, l'Adda, l'Oglio, insomma fino ai confini del Mantovano e del Mincio. Lì andavano a collocarsi, con pochi chilometri di distanza tra loro, tantissime, tantissime curtes, tantissime aziende agricole fiscali, dotate molte di loro di palazze. E' altrettanto vero che anche le città conoscevano l'esistenza di questi palazzi, di questi spazi dove si imbricava e si propagandava la potenza del pubblico sugli orizzonti anche mentali della società che abitava nella Lombardia. E da questo punto di vista anche sono andato a guardare gli spazi in cui si sono celebrati fondamentalmente la maggior parte delle sedute giudiziarie dove sedevano i tribunali per osservare anche quale fossero all'interno delle città e nei pochi villaggi che hanno rappresentato questi drammi della giustizia, quali fossero anche gli spazi dove risuonava con forza questa voce del pubblico. E così, tenendo insieme tutto, cercare di offrire l'immagine e l'interpretazione più coerente e più esaustiva possibile di quello che fu un tempo di governo che noi siamo soliti conoscere con l'uomo di Carolingio. È un bel lavoro di ricerca, devo dire. Ti vedo sommerso da documenti per riuscire a trarre una sintesi efficace di un quadro che ha lasciato comunque profonde tracce di sé. Sì, infatti, devo dire che il lavoro è agevolato dal fatto di contare alle spalle con una enorme tradizione di studi, che inizia già anche con la pubblicazione di documenti nella seconda metà del XIX secolo, che deve molto sia a Porro Lambertenghi, ma al lavoro di tantissimi studiosi che hanno dato via via alle stampe non solo i documenti in edizioni accuratissime, fino a questi ultimissimi mesi quasi, ma anche a una tradizione di studi molto ricca che agevolano moltissimo un lavoro di sintesi come questo che qua si propone, prendendo appunto spunto dalla Lombardia, dove si localizzava non solo la capitale del Regno, Pavia, ma anche la città da un punto di vista economico e sociale più dinamica, sicuramente più importante di tutto lo spazio settentrionale della penisola italiana come Milano. Quindi è un lavoro che tiene conto di uno spazio geografico molto articolato, molto dinamico, molto vivace e le carte di archivio sono un perfetto riflesso di questo trepidante oceano di vita e anche di morte, di guerra, di violenza, di negoziazioni, di rapporti umani fra persone chiamate a governare e a essere governate in un tempo così affascinante come questo del nono e del primo quarto del decimo secolo. A questo punto io ricorderei il titolo per tutti i nostri videoascoltatori, così corrono subito a comprarlo perché sicuramente devono farlo. Il titolo è Governare la Lombardia carolingia, 774-924 d.C. L'autore che abbiamo avuto il piacere di avere con noi è Igor Santos Salazar, l'editore è Viella. Quindi non c'è altro da fare veramente che correre in libreria ad acquistarlo per avere un'idea di come, soprattutto per quelli che ci vivono in Lombardia, possono... Ma non solo? No, non solo, ma quelli in modo particolare, anche per rendersi conto di come questo periodo abbia inciso poi anche su tutto il seguito e abbia anche determinato delle gerarchie tra città e territorio. Quindi è veramente un momento molto, molto particolare e molto interessante. Senza dubbio, senza dubbio. Senti, io ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito e magari ci organizziamo per fare una presentazione in presenza che non sarebbe male. Magari, magari. Sarebbe fantastico. Grazie. Figurati. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie mille.